È il secondo intervento in una settimana. Dopo l'agricoltore che si era barricato in casa a Santa Giustina in Colle, i carabinieri hanno dovuto spiegare un massiccio schieramento di divise per avere ragione in una situazione simile a Solesino, a sud di Padova, dove nel tardo pomeriggio di martedì sono intervenuti per accedere all'interno di un'abitazione dove un sessantenne si era barricato assieme alla madre di 87 anni con cui convive. Ed è periodicamente seguita dai sanitari e assistenti sociali per cure mediche di cui necessita a domicilio. Alcuni giorni fa il figlio non consentiva però più al personale sanitario di accedere all'abitazione, rifiutando ogni forma di comunicazione. Per questo è stato segnalato il fatto ai carabinieri, che a loro volta hanno informato alla Procura della Repubblica, che ha emesso un decreto di perquisizione per accedere al fabbricato e accertarsi che l'anziana non fosse trattenuta contro la sua volontà. Dopo un primo intervento di entrare in casa con l'aiuto di un negoziatore del Comando Provinciale di Padova, visto il prolungarsi della situazione e temendo per la salute della donna, i carabinieri hanno fatto irruzione distraendo il sessantenne, forzando la porta a piano terra e sono entrati e hanno trovato la donna 87enne in condizioni di salute buone. L'uomo non ha opposto resistenza e nei suoi confronti è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio. È stato portato all'ospedale di Schiavonia, mentre la madre è stata trasportata dal personale del SUEM all'ospedale di Abano Terme per gli opportuni accertamenti sanitari.